devo per forza cominciare con i ringraziamenti il mio amico sassoli che mi ha invitato tutto il parlamento e vorrei anche salutare i parlamentari inglesi che ci stanno lasciando con grande dispiacere di tutti e non nascondere l'emozione profonda entrare in questo parlamento europeo dopo aver visto all'ingresso le bandiere e bandiere colorate di tanti stati affratellati nel parlamento europeo dove si parla si discute ci si guarda negli occhi non è stato sempre così e la giornata del 27 di gennaio è una giornata a volte ripetuta troppo ritenuta basta che ancora si parla il 27 di gennaio dando al 27 di gennaio un'importanza che in fondo non è che auschwitz sia stato liberato quel giorno l'armata rossa è entrata ed è molto bella la descrizione che fa primo levi nella tregua di questi quattro soldati russi che aprono e si trovano davanti senza liberare niente perché i nazisti erano già scappati da tanti giorni si trovano di fronte questo spettacolo incredibile al momento ai loro occhi e poi più tardi molto più tardi diventò uno spettacolo incredibile per chi lo volle guardare qualcuno lo vuole guardare neanche adesso dice che non è vero e lo stupore lo stupore per il male altrui sono queste parole straordinarie di primo levi perché questo stupore per il male altrui nessuno che è stato prigioniero ad auschwitz l'ha potuto mai dimenticare un secondo della sua vita lo stupore perché altre persone che non sono pazze che non vengono da un mondo lontano ma sono tuoi fratelli europei hanno pensato per te ma il 27 di gennaio io avevo allora 13 anni ed ero operaia schiava nella fabbrica di munizioni union fabbrica che c'è tuttora dove facevamo bossoli per mitragliatrice di colpo in fabbrica dopo che avevamo sentito scoppi lontani che lavoravano nella città di auschwitz e sentivamo e sapevamo che le che le cose stavano succedendo a birkenau dove ero stata fino a pochissimo prima e venne il comando immediato dalla fabbrica stessa di cominciare quella che fu chiamata la marcia della morte perché io non fui liberata il 27 di gennaio dall'armata rossa io facevo parte di quel gruppo di più di 50.000 prigionieri ancora in vita e che eravamo stati obbligati in quelle condizioni fisiche senza parlare di che cos'erano quelle psichiche di ricominciare quella marcia che durò mesi e di cui si parla pochissimo la marcia della morte e che io quando parlo nelle scuole da nonna come parlo da nonna da 30 anni a questa parte dico che ognuno deve una gamba davanti all'altra nella vita non appoggiarsi mai a nessuno perché nella marcia della morte non potevamo appoggiarsi appoggiarci al compagno vicino che si trascinava sulla neve coi piedi piagati come noi e che veniva finito dalle guardie della scorta se fosse caduto ucciso nessuno poteva rimanere lì su quelle strade traversammo come si fa come si fa in quelle condizioni perché la forza della vita straordinaria è questa che bisogna trasmettere ai giovani di oggi che sono mortificati dalla mancanza di lavoro mortificati dai vizi che ricevono dai loro genitori molli per cui tutto è concesso mentre la vita non è così la vita poi ti prepara questa marcia che deve diventare marcia per la vita e noi non volevamo morire noi eravamo pazzamente attaccata alla vita qualunque fosse per cui una gamba davanti all'altra buttarci sui letamai mangiare qualunque schifezza qualunque cosa mangiare la neve dove non era sporcata dal sangue e non domandarci più nient'altro che andare avanti camminare camminare era il male altrui le finestre erano chiuse traversamo all'inizio fu polonia altas lesia poi fu germania e quando mesi mesi dopo dopo aver passato altri lager altri orrori altri mali ravensbruck un jugendlager che si chiamava jugendlager perché in effetti eravamo giovani ma sembravamo vecchie senza sesso senza età senza seno senza mestruazioni senza mutande non si deve aver paura di queste parole perché è così che si toglie la la dignità a una donna è così abituate abituate ormai a a sopravvivere perché c'era qualche cosa dentro di noi che ci diceva avanti 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 e giorno dopo giorno campo dopo campo io mi ritrovai nella fine alla fine del mese di aprile del 1945 pensate in quella situazione quanto era lontano il 27 di gennaio quindi stato fisico morte di compagne perdute in quella marcia rimaste lì senza potersi alzare non soccorse mai da nessuno perché nessuno aprì una finestra buttò un pezzo di pane c'era la paura era la paura che faceva sì che la scelta fosse di pochissimi perché non si parla quasi mai di questi straordinari che hanno fatto la scelta si dà si dà per scontato che popoli interi siano stati colpevoli perché non fu solo il popolo tedesco fu tutta l'europa occupata dai nazisti in cui non so parliamo della francia parliamo dell'italia non non so molto di altri stati in cui i nostri vicini di casa furono degli aiuti straordinari per i nazisti o parlo dell'italia dove abbiamo visto purtroppo i nostri vicini di casa che ci denunciavano che prendevano possesso del nostro appartamento del nostro ufficio anche del cane qualche volta perché era un cane di razza il cane era di razza questa parlò la razza che ancora la sentiamo dire e per questo dobbiamo combattere questo razzismo questo razzismo strutturale che c'è ancora che c'è la gente mi chiede ma come mai ancora si parla di antisemitismo la gente mi domanda come se io fossi va bene che sono vecchissima nel mio novantesimo anno di età ma non sono quella che sta perché c'è ancora l'antisemitismo perché ancora c'è il razzismo ma perché c'è sempre stato perché era solo non c'era il momento politico per poter tirar fuori l'antisemitismo il razzismo che sono insiti nell'animo dei poveri di spirito sì è così e poi arrivano i momenti corsi ricorsi storici arrivano i momenti più adatti arrivano i momenti in cui ci si volta dall'altra parte in cui è più facile di nuovo far finta di niente più facile guardare il proprio cortile ma è una cosa che non mi interessa ma perché mi deve interessare non mi riguarda e allora tutti quelli che approfittano di questa situazione trovano il terreno adatto per farsi avanti ora la guerra non si fermò come sappiamo e prima di essere stata liberata dagli alleati nel nord della germania arrivò il primo maggio del 1945 la condizione degli ebrei fu analoga nei paesi occupati alleati dei nazisti fu analoga di fatto se non di diritto quelli erano stati e si erano profondamente sentiti gli ebrei di allora cittadini patriotti tedeschi italiani francesi ungheresi si erano battuti nelle guerre io mi ricordo mio padre e mio zio che erano stati ufficiali nella prima guerra mondiale quanti ebrei tedeschi piangevano si suicidarono perché sentivano tedeschi più di ogni altra cosa e questa espulsione dalle comunità nazionali fu dolorosissima fu qualche cosa che andava molto al di là delle leggi perché era appunto era il tuo vicino di casa io una bambina diventata invisibile e questo e questo mi è successo che subito dopo la guerra quando io per caso rimasi viva e tornai nella mia milano con le macerie ancora fumanti incontrai delle mie compagnie di scuola che non mi avevano visto più perché nel 1938 io vorrei tutto far la terza elementare e non ero evidentemente un pericolo molto grave per sia per i fascisti che i nazisti per cui decisero che i bambini ebrei di quella piccola comunità degli ebrei italiani poche 40 mila 38 40 mila persone quindi una piccola comunità che fu vittima per un per un terzo almeno della shoah era assolutamente introdotta nella società non sentiva assolutamente diversa e queste compagne rincontrate dopo tre quattro anni mi di trovato segre dove si è andata a finire che non t'ho più vista a scuola ero una ragazza ferita ero una ragazza selvaggia e una ragazza che non sapeva più mangiare con la forchetta e il coltello perché ancora ero abituata a fressen nicht essen che voleva dire come le bestie che mangiano fressen non essen e come tale ero bulimica e come tale ero anche disgustosa e come tale ero criticata anche da quelli che mi volevano bene volevano di nuovo la ragazza borghese con le buone educazione familiare è difficile ricordare queste cose e devo dire che da trent'anni io parlo nelle scuole e sento ormai come una difficoltà psichica molto forte di continuare anche se il mio dovere è questo sarebbe questo fino alla morte visto che io ho visto quei colori ho sentito quegli odori ho sentito quelle urla ho incontrato delle persone in quella babele di lingue che oggi non posso che ricordare qui dove tante lingue si incontrano in pace perché era possibile comunicare con le compagne che venivano da tutta l'europa occupata dai nazisti solo trovando delle parole comuni perché se no la solitudine assoluta del silenzio di non poter scambiare una parola con l'altro derivava da qualche isolamento ancestrale delle comunità che non si erano riunite in parlamenti visto che l'europa da secoli litigava in modo spaventoso chiunque abbia studiato la storia sa che è adesso da 75 anni un periodo assolutamente incredibile mentre tutto il passato ha fatto sì che i popoli a volte non si conoscessero e le bandiere e le bandiere fuori che ricordavo all'inizio mi hanno fatto proprio ricordare quella desiderio di trovare con le olandesi con le francesi con le polacche con le tedesche con le ungheresi una parola comune per esempio io dell'ungherese ho imparato una sola parola che era pane keniere si dice in ungherese ed è la parola principale che vuol dire fame ma che vuol dire anche sacralità di una cosa che viene sprecata oggi senza neanche guardare che cosa si butta via allora io da tre anni almeno sento che ricordi di quella ragazzina che sono stata mentre oggi sono una vecchia di 90 anni non mi danno pace non mi danno pace perché da che sono diventata nonna io 30 anni fa 32 anni fa di mio nipote uno dei miei tre nipoti per fortuna ne ho tre oltre che tre meravigliosi figli e che parlamento europeo e la non mia estinzione mi sembrano in questo momento lo stesso miracolo non so se sbaglio ma immodestamente immodestamente quella ragazzina lì quella ragazzina lì che ha fatto la marce della morte in quella lì che ha brucato nei letta mai quella lì che non piangeva più quella lì che cercava la parola comune quella lì è un'altra da me e io sono la nonna di me stessa sono una una nonna che quando io mi rivolgo ai miei nipoti che hanno un dispiacere d'amore o di studio o di mancato raggiungimento di qualche cosa che loro vorrebbero raggiungere sono una nonna amorosa sono una nonna molto presente sono una nonna grata dal fatto di essere anche nonna un miracolo eccezionale per una che doveva morire beh io sono nonna anche di me stessa ed è una sensazione che a volte non mi abbandona quando io ho finito di parlare nelle scuole a volte io parlo a migliaia di ragazzi tutti insieme due o tremila e quindi è il mio dovere di testimone parlare e non posso che parlare di me e delle mie compagne ma sono io che salto fuori quella ragazzina magra scheletrita disperata sola e non la posso più sopportare perché sono la nonna di me stessa e sento che se non smetto di parlare e se non mi ritiro quel tempo che mi resta a ricordare da sola o a godere delle grandi gioie della mia famiglia ritrovata non lo potrò più fare comunque perché non ce la farò più e quindi anche oggi fatico a ricordare ma mi è sembrato un grande dovere accettare questo invito e avere questa occasione per ricordare il male altrui ma anche per ricordare che si può una gamba davanti all'altra essere come quella bambina di teresine che chi andrà a praga o c'è già stato e ha visitato il museo dei bambini che a teresine potevano fare le recite o colorare coi pastelli e che poi un giorno furono tutti deportati e uccisi ad Auschwitz per la colpa di essere nata nati perché erano bambini quindi non potevano aver fatto del male a nessuno c'è una bambina di cui non ricordo il nome che ha disegnato una farfalla gialla che vola sopra i fili spinati io non avevo le matite colorate e forse non avevo non ho mai avuto la fantasia meravigliosa della bambina di teresine che la farfalla gialla voli sempre sopra i fili spinati e questo è un semplicissimo messaggio da nonna che io vorrei lasciare ai miei futuri nipoti ideali che siano in grado di fare la scelta e con la loro responsabilità e la loro coscienza essere sempre quella farfalla gialla che vola sopra i fili spinati grazie 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 invito l'orchestra a entrare in aula per la conclusione però voglio invitare tutti a un minuto di silenzio mi sembra che dopo le parole che abbiamo ascoltato sia giusto grazie grazie